Il ritratto della contessa Il ritratto della contessa parla della Carovigno, un altro paese in provincia di Brindisi, una Carovigno di oggi tra pettegolezzi, bravate e voglia di riscatto. Una compagnia di giovani attori di Carovigno è in procinto di riallestire uno spettacolo di repertorio nel salone principale del castello. Due tipi maldessi colgono l'occasione per rubare l'attrezzatura tecnica e l'amplificazione audio-video che la compagnia ha noleggiato per le giornate di replica. Il furto avviene proprio la notte in cui alcuni ragazzi della compagnia hanno deciso di dormire nel castello per fare la guardia e l'attrezzatura. Si sparge la voce che lo spirito della contessa morta 70 anni fa vaghi per le cento stanze del maniero. L'equivoco è inevitabile e dopo un susseguirsi di mosse e contromosse dei personaggi, la contessa finalmente potrà liberarsi dalle catene che le legano a questo mondo. Nella Carovigno del secolo XXI si riscopre una donna che ha sfidato il modo di pensare del suo tempo e che si è impegnata ad aiutare concretamente una comunità a quei tempi poverissima. Per noi è veramente un piacere essere qui in questa bellissima cornice, portare la contessa Schlippenbach in un altro castello che è quello di Celie Mesappica, che è la contessa del castello di Carovigno e con questo film la stiamo portando in altri castelli ed è veramente un piacere. Tra l'altro la risposta del pubblico è stata molto positiva perché giustamente non conoscendoci comunque c'è stata una risposta. Questo è un film, la nostra prima esperienza cinematografica è un film di Giuseppe Convertini, noi solitamente facciamo teatro e in questa esperienza cinematografica abbiamo unito quella che è la nostra esperienza teatrale con un po' della storia della contessa Schlippenbach. Tra l'altro questo film sarà di nuovo a Carovigno il 25 agosto e vi aspettiamo anche lì.